Gianni ha insistito perché io imparassi una canzone in portoghese. Ora, grazie a Giseli, a sua moglie, ho preso un po' lezioni di portoghese e quindi io questa canzone la canto, la vorrei cantare però, con l'aiuto e il sostegno del nostro Cesare. Cesare, vieni! Allora, voi che ci seguite sapete che il nostro Cesare è il nostro cameriere quest'anno ed è il cameriere che viene da San Paolo do Brasil, al qua, brasiliano, che come vedete rifocilla i nostri ospiti durante la trasmissione. È venuto dal Brasile apposta, stiamo facendo lezioni di italiano, quindi prima che tu dica a me come parlo io il portoghese, tu di una cosa in italiano. Ciao. Come si saluta in italiano? Ciao. Ciao. Buonasera. Buonasera. A tutti. A tutti. Oh, bene, ciao e buonasera. Come sei bella. Bellissima. Io sto insegnando quello che mi pare, insomma, non so se si era capito. Ora, Cesare, io vorrei che tu ti accomodassi qui, tra i nostri ospiti, così ascolti questa canzone e... Come fa la canzone? No, no, Cesare, ti prego, ti prego, ho detto il titolo. Come è grande, o mio amore, por você. Una famosissima canzone di Roberto Carlos, accompagnata da Gianluca Sinatra e Mikol, alle coreografie, Come è grande, o mio amore, por você. Come è grande, o mio amore, per la canzone, un mio amor pur voce e non ha nada pra comparar para poderli explicar come è grande un mio amor pur voce nei mesmo sé nei mas estrellas nei mesmo mare o infinito non è maior che un mio amor l'hai mai esponito mi disispero a procurar alcuna forma dell'infanare come è grande il mio amor pur voce nunca se esquece nemmun segunzo che io te nemmo amore maio di un mondo come è grande o mio amor per voce per voce per voce per voce nemmun segun che io che io te nemmun amore maio mondo come è grande il mio amor pur voce maio come è grande il mio amor Pur vosso Com'era? Obrigado Obrigado, bellissimo Grazie, grazie Cesare E questa è stata la prova in portoghese